A Natale al piazzale Michelangelo vorrebbero mettere la ruota panoramica, che ne pensi? La sciupa tutto o è bella? È bella, non sciupa, è bella, è dappertutto. Sul piazzale Michelangelo, non lo so, proprio sopra, forse è un po' troppo grande come struttura, oscurerebbe un po' il piazzale in generale. Meglio di no, quindi non ti interessa, non ci andrai? No, non sarebbe, preferisco il piazzale com'è. Può anche starci, perché no? Il panorama almeno si vedrà, ci sale semmai? Allora, non lo so, però se lo vogliono fare e la cosa può essere interessante per la cittadinanza, perché no? Può essere una cosa positiva. Andresti, ti piace l'idea di fare un giro lì? Sì, perché no? Non è che sciupa tutto il panorama di Firenze? Non penso, perché il panorama di Firenze, poi, da piazzale Michelangelo si può girare l'intorno, non penso che potrebbe bloccare la vista. Si vede lo stesso, dici? Sì, sì, certo, penso di sì. Per me sì, è bello, ci andrei, sì, sì. Potrebbe andare a fare un giro anche? Sì, perché no? Cioè, chi dice il panorama sarà deturpato? Assurpato dalla... Ma se la fanno bella, magari, dipende com'è. No, non sono per niente d'accordo, è bellissimo, così, no. Andrebbe, ci salirebbe? Penso di no. Perché sciupa tutto. Esatto, è così bello, no. È bello vedere Firenze, però già basta della piazza, un piazzale. Ci sono nelle più grandi città europee, non vedo perché, sta benissimo. Andrebbe anche a farci un giro? Beh, perché no, sì, senza problemi. E che asciupa il panorama? No, non credo. La terranno definitivamente o è solo per... No, 45 giorni, semmai. Ora, benissimo, bene, bene.